ciao a tutti allora sono don guido sono il vice parroco qui della parrocchia di san pio quinto e ormai stiamo partendo per questa gmg ormai per me è la terza dopo colonia del 2005 e madrid nel 2011 ecco siamo arrivati alla terza cracovia 2016 questo è un po più anche particolare perché questa sarà la mia prima da sacerdote quindi non so cosa mi aspetterà prima le altre due me le sono un po godute da giovane e adesso vediamo un po anche da da guida quello che che mi proporrà bene sembra un'esperienza forte un'esperienza incisiva un'esperienza di grazia ecco speriamo di poter vivere bene le relazioni che che incontreremo di poter vivere un nuovo sintomo di di chiesa una cosa nuova una chiesa chiamata da papa francesco a sperimentare la misericordia su se stesse e sugli altri ecco mi auguro che i giovani possano percepire una chiesa vicina a loro in ascolto che si fa compagna di viaggio che non è lontana ma che vuole accompagnarli in questo pellegrinaggio e non lo so poi altro poi scopriremo durante il cammino ciò che signori ci offrirà non lo so però è curioso che ogni volta ci si ripresenta sempre un nuovo cammino una nuova storia da continuare grazie ciao un buon pellegrinaggio